Il Perugia è tra coloro che sono sospesi, ma il progetto sportivo non può più attendere. Allora Pianni Massiano si è iniziato a parlare di calcio, di squadra, dirigente, allenatore. Il presidente Santopadre è sempre pronto a valutare offerte, qualche sondaggio ci è stato e anche qualche approfondimento. Inizierà a prendere in mano la situazione, perché offerte o non offerte, il tempo dell'attesa è scaduto. Eventuali valutazioni societarie si potranno fare dopo aver iniziato a programmare la prossima stagione. In attesa di capire se sarà Serie B o Serie C, con la data cruciale di venerdì 7 luglio, quando sarà in programma il Consiglio federale che definirà gli organici di Serie A, B e C, il Perugia, come detto, ha iniziato a valutare la rosa. Tra i pali ha sottocontratto Furlanna, Bibi e anche Moro che torna dal prestito. Capitolo difensori, ad oggi il Perugia può contare su Angela, Curado, Sgarbi, dell'Orco che è fuori però per infortunio e ne avrà almeno ancora per un mese, e i giovani Angori e Righetti. Sulle fasce sottocontratto c'è anche Lisi, che avrebbe fatto intendere di non avere problemi a restare anche in Serie C, e cancellieri per il quale il Perugia aveva un obbligo di riscatto. Per quanto riguarda la mediana ci sono Santoro, Juan, Bartolomei e Luperini, mentre gli Annoni è in bianco rosso con un prestito biennale che la Salernitana vorrebbe interrompere nel caso in cui il Perugia dovesse militare in Serie C. In attacco o sottocontratto ci sono Di Serio, Matos e Vano al rientro dal prestito. In caso di Serie C il Perugia dovrà privarsi di parecchi di questi giocatori, soprattutto per il Monte Ingaggi. Intanto sarà questo il gruppo che ripartirà. Nelle prossime ore dalla società bianco-rossa ci si attende una comunicazione in vista del raduno, ma ancora prima chi sarà chiamato a guidare il gruppo. Santo Padre avrebbe individuato un allenatore pronto a sposare entrambi i progetti. Il nome più caldo al momento è quello di Francesco Baldini un anno fa a Vicenza, mentre nel ruolo di DS dovrebbe esserci Jacopo Giugliarelli. I primi rumors di calcio mercato al Perugia è stato accostato Roberto Gunseie. Sull'attaccante del Modenex Foggia ci sarebbero anche Arezzo e Cluj. In uscita invece lo Spezia, sulla cui panchina approderà Massimiliano Alvini, avrebbe messo gli occhi su Juan.